Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori. Grave lutto per il mondo delle serie TV. A 90 anni ci lascia un grandissimo attore, un volto familiare, riconoscibilissimo e mancato per cause naturali e prima di saperne di più vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. È stato un triste risveglio per tutti gli appassionati di cinema e di serie TV. Ci ha lasciato un grandissimo attore, un attore che era nel cuore di tutti quanti noi. Con grande dispiacere il primo anno di Marco Liguori annuncia la scomparsa di David McCallum, attore di nazionalità scozzese. Lo ricordiamo in film come A Night to Remember e La Grande Fuga, ma è stato soprattutto nelle serie TV e nella fattispecie in NCIS che il grande attore ha interpretato un ruolo di spicco. David McCallum per oltre 15 anni ha interpretato il ruolo del medico legale. Nella fortunata serie l'attore si è spento per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York, circondato dall'affetto della sua famiglia. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un professionista impeccabile, come un uomo, dall'infinita generosità per questo e per tanti altri motivi. Il primo anno di Marco Liguori ricorda il grande attore scozzese David McCallum, mancato a 90 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sui canali YouTube, secondo canale di Marco Liguori e Marco Liguori, psicologia e crescita personale.